Qual è l'obiettivo in questo campionato della Spider e se vi sentite pronti a questa nuova avventura? Probabilmente non siamo pronti ancora in questo momento, stiamo lavorando per essere pronti, per avere un buon ritmo nel momento giusto all'inizio del campionato soprattutto. La pressione che abbiamo addosso adesso è tanta, ci fa piacere da un certo punto di vista averla perché comunque sento il tifo, sento la gente che ci avvicina e questo ci dà una grande carica, sottolineando appunto quello che ha detto prima il Presidente, soprattutto per quello che riguarda l'aiuto e l'aspetto che ci contraddistingue da sempre questa società che è il puro volontariato. Per quello che riguarda i propri risultati, quest'anno abbiamo comunque per scelta fatto una squadra che sia fatta il più possibile ai giocatori di Fabriano. Lo dimostra che nel roster ci sono solo due giocatori che non sono i Fabriano e perlopiù sono due argentini che ci alzano un po' il livello di qualità di questa squadra. Indubbiamente l'abbiamo fatta per fare bene, noi speriamo di lottare nelle posizioni alte e la classifica, poi sarà il campo a dire quello che saremo. Quello che ci piace far capire è che vogliamo coinvolgere molto la gente, il tifo e far capire che questa è la squadra di Fabriano fatta dai fabrianesi e fatta da gente volontaria di Fabriano.